A breve vedremo la nuova fontana, la fontana che arricchirà e impreziosirà il nostro bellissimo lungomare Caboto, una fontana all'interno di una rotatoria che ha migliorato la viabilità e di cui c'è stata tanta aspettativa, ma adesso a brevissimo noi l'andremo ad inaugurare, andremo ad inaugurare con tutti i cittadini di Keito, con tutti coloro che vorranno condividere questa gioia con noi dell'amministrazione. Una fontana importante, una fontana che vedrà San Francesco, che ha lasciato traccia del suo passaggio nella nostra città, quindi ha anche un grande valore culturale.